o si buonanotte simpatico da occhio eppure questo lo spezziamo eppure questo lo spezziamo pump contro pump da due ore per loro nessuno dei due è ancora vivo ok devastato occhio 7.000 player ieri di ci sono ma come o si simpaticone ci avviciniamo un pochettino anche se con il dottor cobra non è proprio la strategia migliore ci mettiamo qui occhio uno che gattona questo lo rulliamo subito o si colpettino alla testa simpatico occhio l'amico sicuro viene a prendere la card no c'è un altro gattora o ma che plasir ma che spettacolo signori miei subito tre chilettine furbette allo start occhio non ci facciamo ingolosire che sento un po di casino da sti pezzi un saluto agli ultimi iscritti e iscriviti ora per essere salutato nel prossimo video fate vedere se riusciamo a trovare qualcosa no niente di niente occhio perché la missione che ci hanno segnato oggi non è per niente facile dobbiamo fare quelle che lì fresche diruggiate e saporite ma soprattutto le dobbiamo fare solo e solamente con il nuovo ormai insomma nuovo non tantissimo nuovo cobra kyle cecchino super potente però possiamo giocare con il cecchino con il dmr cobra solo di un colore quindi non possiamo prenderne due verdi ma dobbiamo cercare di creare un arcobaleno ci mettiamo subito alle tracce del cobra kyle lupacchio ce lupacchio dietro dietro ok change arma tanto c'è un altro all'altra parte ok forse non è proprio una buonissima situazione per noi vada lupacchio vada lupacchio sì 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 stanno contro quei due molto molto buono molto molto buono ricarica 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 signorina ricarica vanno sicuramente a trovare oh 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 ok uno l'hanno buttato per terra oh sì l'ho killato io l'ho killato io non lo so non lo so forse no non penso di aver killato l'amico vediamo se c'è qualcuno ancora entro quel bacio fermi un saluto particolare hanno sparato altri ma non capisco chi è quanto non mi piacciono situazioni lupacchio bravo così marca il perimetro fai la bb all'interno di questa zona almeno gli facciamo capire che è tutta roba nostra e non si possono avvicinare o spari spari scuola signorina buonasera la signorina gli spara pure qualcun altro probabilmente bottazzo questo simbottaggio per cento ma gli spara pure qualcuno guarda quello da due scuola da 200 metri ci voleva sparare ok lo lasciamo in vita lo lasciamo in vita non ho capito se questo era un bottazzo oppure no fatto sta che sta strisciando da qualcuno non vorrei o doppia strisciata doppia energia ci sono ok quello ok per porca la miseria o che succede ci sparano tutti questo lo buttiamo giù per non sapere leggere e scrivere prima che ce lo buttano in faccia vogliono sparare al nostro pacchione ok c'è qualcuno che si nasconde buonanotte 1 buonanotte 2 un altro dimmi di merlo mi cavolo si chiama gustoso o mio dio non abbiamo frullato dmr si chiama non si sa quello che ho detto si un get zipline come i veri professionisti saltino scivolata e ce ne andiamo in safe tanto quello la chiedere lo deve restare noi facciamo una bella roba facciamo un impiccio ci mettiamo qua sopra diamo un'occhiata ok ne arriva un altro ma quanti player ieri ci sono da ste parti o si 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 fa ammela sta bella chiletta fatto ok ok ho capito la lezione cucciano ho capito la lezione o questo ai 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 a madonna mia via 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 ci ha devastato è ci ha devastato sto fringuellino guazzettine d'esperienza per line al volo per noi arriviamo 100 100 ok abbiamo villato qualcuno non si sa che il pacchio mi dispiace ma ti devo abbandonare ci prendiamo questa bella bat mobile o sparano con il pump probabilmente al nostro pacchio non stare molto molto attenti perché quello sembra uno scarzone invece top aggressive abbiamo bisogno o no 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 era beccato l'ho beccato fermi fermi e questo lo frulliamo sto fringuellino sì 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 vieni qui signori a ti piace il kebab vieni un po qui c'è l'amichetto ovviamente c'è l'amichetto l'abbiamo visto occhio l'abbiamo visto l'abbiamo altri da dentro la casa il verme da dentro la casa ok l'importante ok vuole restare ti do una mano ferma dentro la casa di una mano e 40 ma l'ha lasciato lì ma che diavolo era una vera cotta ha lasciato qualcosa di oro c'è il verme da dentro la casa che potrebbe essere un ottimo modo per frullarlo ok è uscito il verme e guardate che ferme sulle ginocchia vieni vieni cucciolo vieni che ti faccio ti racconto una bella serenata oh mio dio signori ma non ci prende nemmeno con colpo non dobbiamo ricaricare abbiamo 7000 colpi di questa roba il mio problema è quello che mi spaventa davvero ah ma sono due i vermi ciattoli tutti e due che scappano questi però ti prendo sì a facce di da là c'è il cecchino c'è il cecchino 100% col cecchino ok non possiamo più scherzare amici miei e amici miei mi raccomando per supportarmi al massimo all'interno del negozio oggetti inserite il codice più fresco del centro italia r4 ce lo dobbiamo giocare con intelligenza sto game noi non abbiamo pure se ci frullano e ci bussiano siamo belli che spacciati perché ovviamente non abbiamo bump non abbiamo niente di niente però fermi ci prendiamo questa che potrebbe essere buona almeno vediamo dove sono i zingari questo me lo prendo sì molto molto buono allora abbiamo bisogno assolutamente di bello questo questo mi piace doppia chiavetta doppia energia fermi un altro cavolo è verde altrimenti l'avrei preso volentieri dobbiamo inventarci una bella roba se ci vengono a pushare o corvo che mi dai sempre lo dai il cobra no ovviamente pistolina viola che non è male noi non dobbiamo più scherzare signori miei dobbiamo stare molto molto attenti otto playerini vivi e me la voglio portare a casa o l'ho visto gli ho visti bananita e c'è sempre una bananita all'interno di game sempre una bananita il problemino che questi ci hanno il cecchino ok macchina in arrivo ovviamente vuole venire qui e gli dobbiamo far capire che qui non si può venire aia è in mano cecchinato porca miseria è brutta situazione fermi e abbandoniamo casa abbandoniamo casa non possiamo sfidarli col pump anche perché noi non ci abbiamo il pump ci dobbiamo inventare una roba strategia sui funghi come i veri marinai come i veri pescatori ok vanno sul fungo sì golosissimo va benissimo abbiamo bisogno sempre di cure abbiamo bisogno sempre ecco oh oh porca mi voleva frullare questo il vichingo sì ti frullo io ti frullo io ti frullo io ti prego sì l'ho frullato davvero doppio lupo in arrivo è qualcosa di goloso cucciolo no è blu ce l'abbiamo già blu ma porca la miseria ok ci sono delle chest forse è il momento di andare a vedere cosa c'è all'interno di queste chest il problemino ok è uscito dalla casa ora il vigliacqua ti prego dammi uno sceldino pure qualcosa di buono sì questo mi piace occhio signori noi facciamo una roba uber rischiosa mangia di sti funghi ok ho sentito la puzza di qualche viscido c'è sicuramente qualche cala miseriaccia lo sapevo via 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 sì 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 mi piace la fuga così mi piace doppio lupo qua sotto sì 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 allora fermi 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 a prima idea idea geniale idea geniale dimmi che non mi brucio se vado qua sopra ti prego dimmelo ti prego no mi brucia ma porca la miseria delle idee geniali che non sono poi così tanto geniali hanno messo il fuoco su tutti questi condotti a perché giustamente le persone camperavano là sopra ed era proprio quello che volevo fare io dobbiamo trovare un appostamento ci dobbiamo trovare un luogo dove siamo liberi di scamperare e sparare come vogliamo ho sentito il vigliacco fermi 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 no 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 spieghiamo solo c'è il cecchino signori ma che cavolo nemmeno un colpo questo c'è il cecchino è questo c'è il cecchino e lo sa pure usale di veni fuori per i fuori ma mannaggia fermi 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 pensiamo contro safe ci dobbiamo muovere così velocemente dobbiamo capire soprattutto lui dov'è se c'è una pushare spero proprio di no dove è andato vediamo l'andato il vikingo ok fermi 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 corsettina silenzio non mi cerchi mare che non c'è cerca eccolo 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 vieni vieni oh no no ti prego vai lupo vai lupo dammi una mano dammi una mano o porca la miseria fermi ok lui sicuramente si muove ora ti prendo io ti prendo fermi ma non ho paura fermi a paura davvero lupo non c'è prova è lupo no 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 ma porca la misera dei lupi non ci provare maledetto ok siamo no 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 lupo 2 no lupo 2 no lupo 2 no ok anzi ti possiedo si possedere per i signori miei siamo noi contro è la banalità c'è sempre nooo mi ero pure ampassato